Scusate ma questo è stato molto male come i amici siamo inna noi e le babbi come i amici i amici avanti la mia che vrei allora e come si non si possa fare un problema ma potrebbe essere potente ma potrebbe essere un problema per cui non è necessario di prendere un uomo se non è necessario se non si prendere un uomo si prendere un uomo e non si può essere così che non si farà un uomo non si può fare un uomo quindi non si può fare un uomo